Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero Ma un pomeriggio dalla mia finestra, lo vidi insieme ad un ragazzo biondo Chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non l'ho visto proprio più Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non si saprà mai